Ben trovati, come disquisivamo ieri la questione del confronto fra la Regione e i Comuni, l'Anci e i singoli Comuni sull'individuazione delle aree idonee si sposta sulle modalità attraverso le quali queste consultazioni e questo percorso comune devono essere portati avanti. Nella riunione di ieri c'è stato, non dico un sostanziale nulla di fatto, ma comunque un registrare le rispettive posizioni nell'attesa di capire se quando le convocazioni territoriali che la Regione sta facendo partire per espletarle, credo entro la metà di settembre, possano essere in qualche maniera condivise. Ci sono singoli sindaci che in maniera, credo non pretestuosa, dicono di essersi già espressi in passato sulla impossibilità di poter contribuire a questa transizione energetica per la particolare conformazione del loro territorio comunale, per la non vocazione verso impianti industriali, per l'impossibilità legata ai vincoli archeologici, idrogeologici o di altro tipo. C'è poi una questione che dino un poco conto che è un problema che non è responsabilità della Regione e naturalmente neanche dei comuni, ma è delle prescrizioni di legge del famoso decreto Draghi che non si limita a dire individuate le aree idonee, prescrive che debbano essere individuate anche le aree non idonee e poi come dicevo ieri anche le aree ordinarie. Significa che per le aree idonee c'è una procedura semplificata, velocizzata, che non deve passare per le pastoie burocratiche, per le aree non idonee c'è una indisponibilità totale e poi c'è questa vicenda delle aree ordinarie che invece rimarrebbero in piedi pur sottoposte a una procedura non semplificata e dunque con i tempi molto più lunghi per l'ottenimento delle autorizzazioni. Qualche Sindaco, per esempio quello di Vilanova Forro, Maurizio Onnis, ha detto che questa è la vera partita, cioè quella sulle aree ordinarie che rischiano di essere la gran parte, perché immaginiamo che i comuni saranno pochissimi quelli a indicare delle aree a loro avviso idonee. Io penso che non possa essere molto di più delle attuali aree industriali e in parte dismesse e in parte dunque già compromesse. Se dunque qualche altra area idonea verrà inserita, verrà fatto su indicazione dei tecnici, magari dei vari assessorati che partecipano a questa procedura e magari sarà mal digerita dai sindaci stessi. Dunque occorre molta prudenza e molta attenzione nel gestire questa fase anche perché, ripeto, più scelte condivise si fanno, più possono essere governate, più divisione si crea e più incomprensioni si creano col territorio e più sarà difficile naturalmente gestire la partita. Vediamo un po' che succederà.